Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, diamoci dentro col video. Quando incontra per la prima volta Steven Scherer nel 1986, Jamie Heagle è una ragazza carina ed estroversa di 22 anni. Jamie ha un carattere solare, si mostra sempre col sorriso. Durante l'infanzia e l'adolescenza coltiva il suo amore viscerale per i cavalli. Le piace giocare a baseball, si arrampica sugli alberi e si diverte in compagnia dei fratelli più piccoli, ossia i gemelli Rich e Rob, ed è molto legata a sua madre, Judy. Il tempo passa e Jamie da ragazzina pian piano si trasforma in una giovane donna, premurosa e compassionevole. Ha sempre lo stesso carattere frizzante e socievole. Al liceo si guidanza con un ragazzo che frequenta il secondo anno con lei. I due restano insieme per circa sei anni. Quando si lasciano rimangono in buoni rapporti. Anche dopo essere andata via da casa, Jamie non trascura né i rapporti con i suoi compagni di scuola né quelli con la sua splendida famiglia. Si stabilisce prima in un appartamento che condivide con un'altra inquilina, poi in uno tutto suo a Redmond, Washington. Questo appartamento si trova a meno di dieci miglia dalla casa dei suoi genitori, che abitano a Bellevue. Nonostante viva nelle vicinanze, Jamie chiama sua madre anche quattro o cinque volte al giorno e trascorre la maggior parte dei fine settimana con i genitori e i fratelli. Jamie trova lavoro in un'azienda informatica quando incontra Steven Scherer e inizia una relazione con lui. La prima volta in cui i genitori di Jamie incontrano Steve, la coppia di giovani fidanzati raggiunge casa loro in motocicletta. Gli Heagle sono tutt'altro che colpiti positivamente da Steve. Mentre Jamie in passato aveva portato a casa dai suoi genitori fidanzati educati e amichevoli, Steve Scherer si dimostra completamente disinteressato. Non gli frega nulla di socializzare con Judy e Jerry Heagle, ossia i genitori di Jamie. A dirla tutta, li considera una seccatura. Ogni volta che li va a trovare con Jamie, non vede l'ora di andarsene. In quel periodo, né la famiglia né gli amici di Jamie sono eccessivamente preoccupati per questa relazione. Credono che Jamie non possa essere seriamente interessata a un tipo come Steve. Ma a questo punto dobbiamo porci una domanda. Chi è Steven Scherer? Steve nasce in California da suo padre, David, che quando lo ha messo al mondo aveva 22 anni, e da sua madre, Sherry, che ne aveva 17, quindi una mamma molto giovane. Come i genitori di Jamie, anche David è originario del Nord Dakota. David è un muratore, ma possiede un buon senso per gli affari e si dà molto da fare. Si trasferisce con la famiglia a Washington quando si sta verificando il boom edilizio. Grazie al tempismo di questo trasferimento, David riesce in effetti ad avviare una società di costruzioni e acquista un terreno a basso costo in quello che sarebbe stato definito il sobborgo di Seattle di Mill Creek. Sebbene Steve somigli fisicamente a suo padre, non possiede l'intraprendenza e l'ambizione di David Scherer. Tuttavia, i due condividono una grande passione per l'alcol che causa a David molti problemi nel gestire il suo matrimonio con Sherry. Nel tentativo di liberarsi da questo vizio e rimettersi in stesto, nel novembre del 1983, David lascia la casa di Washington per dirigersi verso un'altra abitazione situata a Palm Desert, in California. Gli Scherer infatti possedevano diversi immobili, avevano anche delle case a Ranch and Raj, in California, e a Scottsdale, in Arizona. David non sta bene, è sconvolto, mentre riflette sullo stato in cui versa il suo matrimonio. È per questo che si è allontanato e rimane da solo anche durante le vacanze del ringraziamento. La sera del ringraziamento, Sherry, sua moglie, lo chiama e dal tono di voce di suo marito capisce che è ubriaco. Ebbene, aspetta un po' di tempo, lo richiama a diverse ore più tardi, ma David sembra ancora più sbronzo. E in questo caso David dice a Sherry che tutti sarebbero stati meglio senza di lui. La informa che ha una pistola e che sicuramente l'avrebbe usata. Quest'ultima affermazione preoccupa non poco Sherry, tanto che la donna contatta le forze dell'ordine che però non possono intervenire, insomma non possono fare nulla di che. Quindi Sherry decide di prendere un volo per la California e atterra verso le 23 di venerdì 25 novembre. Quando arriva alla loro casa di Palm Desert, Sherry trova David seduto sul divano. Sulla tempia destra l'uomo riporta una ferita causata dal colpo di una pistola automatica, calibro 32. La pistola viene rinvenuta sul tappeto vicino al divano e accanto c'è un bossolo. Il 44enne David è già in rigor mortis e il suo corpo mostra delle lividure, segni che indicano che era morto da tempo. Gli investigatori dell'ufficio del coroner della contea di Riverside individuano un foro di proiettile nella parete nord della stanza. Il muro è macchiato da schizzi di sangue e frammenti ossei. A parte questo, la casa risulta in ordine ed è pulita. David è vestito e non ha ferite da difesa alle mani. Sebbene non abbia lasciato un biglietto da Dio, il suo livello di alcol presente nel sangue, pari allo 0,10%, indica che era davvero parecchio ubriaco. La sua morte viene classificata come suicidio e il suo corpo rimandato a Washington per la sepoltura. Quando Steve e Jamie si incontrano, il ragazzo ha 24 anni, quindi soltanto due anni in più di Jamie. Come detto, tutti si straniscono quando li vedono insieme, perché Steve non rispecchia il tipo di ragazzo che Jamie è solita frequentare. Steve è alto 1,70 m, ha una personalità sì carismatica, ma spesso risulta irritante più che affascinante. Al primo incontro con Jamie, Steve stuzzica la curiosità della ragazza dicendole che proviene da una famiglia molto ricca. In effetti, si percepisce che Steve è benestante, quindi Jamie crede alla sua versione. Tuttavia, a dirla tutta, a Jamie non interessano i suoi soldi, è realmente attratta dalla personalità di Steve. Quello che la famiglia e gli amici di Jamie non sanno è che Steve ha una fedina penale parecchio macchiata. Ha un brutto carattere, una dipendenza dal gioco d'azzardo, dall'alcol e dalle sostanze. Per di più, ha poco rispetto per le donne, esce con tante ragazze diverse, le illude dicendo che prova dei sentimenti per loro, ma mente. Infine, non riesce a tenersi un lavoro stabile. All'inizio della loro frequentazione, Steve chiede a Jamie con chi altro era stata prima di lui. Jamie gli racconta tranquillamente che era stata a lungo con un compagno del liceo, spiega che poi si erano lasciati, rimanendo comunque in buoni rapporti. Steve, però, ha l'inopportuna idea di chiamare l'ex ragazzo di Jamie per minacciarlo di morte. Si ferma solo quando lei si mette in mezzo, gli strappa il telefono dalle mani e chiede scusa al suo ex per il comportamento di Steve. Comportamento da folle, oserei dire. Comunque, Jamie è giovane ed è convinta che i modi di fare di Steve, ossia la sua possessività e quel controllo ossessivo, sono segni d'amore. La sua gelosia, almeno in questo momento, la fa sentire protetta. Quanto ai problemi di Steve con le forze dell'ordine, i reati vanno dall'aggressione alla resistenza all'arresto. Sembrano sempre derivare dal consumo di alcol e da questioni con le donne. Il tipo di ragazza che Steve preferisce è bionda, specialmente se piccola e graziosa. Non gli è difficile fare colpo sulle ragazze, ma poi tutte le sue relazioni si disintegrano a causa degli abusi verbali, emotivi e fisici che lui commette. Per non parlare delle minacce e dello stalking. Cioè nonostante, molte delle donne che frequentano Steve sono intelligenti, istruite e sicure di sé come Jamie, o quantomeno così appaiono prima di iniziare una relazione con lui. Insomma, sembra che Steve abbia un potere malsano su di loro, riesce a controllarle e tenerle vicine per molto tempo, anche quando vorrebbero allontanarsi. Proprio mentre frequenta Jamie, Steve continua a molestare, minacciare e aggredire fisicamente la sua ex ragazza, che aveva anche ottenuto un ordine restrittivo contro di lui. Mica pizze fichi, insomma. Sorprende poi che l'ex di Steve e Jamie vivano nello stesso condominio. Questa però non è una casualità. Infatti Steve aveva addocchiato Jamie proprio per riuscire ancora a esercitare il suo controllo anche sulla sua ex. Entrambe le ragazze sanno dell'esistenza dell'altra ed entrambe immaginano che l'altra sia il vero problema. Nessuna delle due si rende conto che il vero problema ha solo un nome, quello di Steve. La ex però decide di prendere le distanze da questa situazione quando Steve una sera le scaglia contro un bicchiere, colpendola alla testa e provocandole una commozione cerebrale. Come se non bastasse, Steve, che è un genio, minaccia di ucciderla proprio davanti alle forze dell'ordine. Così viene condannato per aggressione di secondo grado. Quando l'ex fidanzata di Steve decide di allontanarsi trasferendosi altrove, il ragazzo può concentrare tutta la sua morbosa attenzione su Jamie. Jamie, dal canto suo, è determinata a sposare Steve. Vuole soddisfarlo al meglio e siccome a lui piacciono le ragazze molto magre, Jamie si mette a dieta nel tentativo di adattarsi all'ideale di donna di Steve. Il punto è che Jamie già era magra. Era una ragazza piccola, filiforme, non aveva bisogno di mettersi a dieta. Questa è la verità. Inoltre, siccome a Steve piacciono le bionde, Jamie schiarisce con la tinta i suoi bei capelli castani, proprio per accontentarlo. La sua personalità a questo punto non emerge più come prima. Jamie era una ragazza zilante e sicura di sé, ora invece è spesso nervosa e risulta sottomessa. Ovviamente Steve, col tempo cosa fa, allontana Jamie dai suoi amici e dalla sua famiglia, la convince a trasferirsi con lui in California, dove Jamie non conosce nessuno. Presto, l'intero mondo della giovane prende a girare attorno a Steve. Il suo unico scopo è renderlo felice. Judy, la madre di Jamie, è preoccupata, molto preoccupata. Insomma, ha notato i lividi sulle braccia e sulle gambe di sua figlia e sa che a procurarglieli è Steve, ma non riesce proprio a convincerla a lasciarlo. Si limita a sperare che i due non si sposino mai. Nel novembre del 1986, tuttavia, la coppia ufficializza il fidanzamento. Steve regala a Jamie un anello e, su suggerimento dello stesso Steve, l'anello viene assicurato insieme agli altri loro averi. Nello stesso mese, Steve chiama il dipartimento dello sceriffo della Contea di Riverside per riferire che qualcuno si è intromesso nella loro casa mobile. Alcuni beni sono stati sottratti, incluso l'anello di fidanzamento di Jamie, per un valore complessivo di oltre 32 mila dollari. Nonostante il disagio legato ai tempi della pollizza e al presunto furto con scasso, la compagnia di assicurazioni paga il sinistro. Steve però diciamocelo, ha le mani bucate e nel giro di pochi mesi quei soldi finiscono. La coppia dunque è costretta a tornare a Washington. Ovviamente i familiari di Jamie sono al settimo cielo per questo, ma l'aspetto della ragazza li preoccupa. Jamie adesso è biondissima e non è questo ad allarmarli, ma è anche fin troppo magra, è smunta. Intanto Steve esprime il desiderio che Jamie abbia un seno più grande, per compiacerlo ovviamente. E la ragazza accetta di mettersi delle protesi, di sottoporsi a un intervento chirurgico che si rivela molto doloroso. Il seno nuovo per la corporatura di Jamie è troppo grande, risulta infatti sproporzionato. E infatti Jamie si pente presto di aver preso quella decisione, mentre Steve, insensibile, è entusiasta del risultato. Prima di convolare a nozze nel luglio del 1987, i due si lasciano più volte, ma alla fine tornano sempre insieme. Nel maggio del 1987 Steve inizia a scontare una condanna a 60 giorni nel carcere della Contea, colpevole di un furto con scasso commesso in una residenza, ma l'evento non dissuade Jamie dall'idea di sposarlo. Insomma, Jamie mette da parte le sue esigenze solo per accontentare Steve. È infelice mentre il ragazzo non si trova a casa, perché la terrorizza il pensiero che possa porre fine alla relazione e abbandonarla. Jamie quantomeno inizia a svolgere un lavoro che ama per la Microsoft. Contemporaneamente, anche Steve trova un grande amore, ossia la polverina bianca. La sostanza in questione alimenta molte delle loro liti. Steve le alza le mani addosso, soprattutto quando Jamie prova a nascondergli la sua scorta. Steve, più scaltro, invita i fratelli di Jamie a casa sua e offre anche a loro la polverina. E a dirla tutta, alla fine riesce ad attirarli nella rete della dipendenza, sebbene per Rich e Rob non sia così profonda come nel caso di Steve. Infatti poi Rich e Rob smettono semplicemente di usarla. Steve no. Sapendo che Jamie e Steve si sposeranno, i genitori di Jamie, pur disapprovando la scelta della figlia, si adoperano per organizzarle il miglior matrimonio possibile. Steve, dunque, due mesi dopo essere uscito di prigione, indossa uno smoke in bianco e i suoi capelli sono visibilmente più chiari. Pochi mesi dopo le nozze, mentre sono ancora in luna di miele, Steve viene nuovamente arrestato, questa volta per guida in stato di ebrezza. Mentre è in arresto alla stazione di polizia di Bellevue, Steve balza addosso a un agente, minacciando di ucciderlo e tentando di soffocarlo con entrambe le mani. Nonostante venga condannato per aggressione criminale, Steve trascorre poco tempo in carcere. Insomma, sembra abbia un'incredibile fortuna nell'evitare lunghe prigionie e pene adeguate per i suoi crimini. Inoltre, quando Steve non è sobrio, diventa sempre più derisorio e crudele con Jamie. La ragazza conosce i suoi difetti, ma lo ama, quindi trova sempre una scusa per scaricare la colpa di Steve su altri. Ad esempio, Steve ha aggredito quel poliziotto, sì è vero, ma solo perché il poliziotto lo stava provocando. Quando si confronta con sua madre riguardo alla frode assicurativa che hanno commesso in California, Jamie afferma che non sapeva cosa stesse succedendo. O meglio, l'ha capito quando era troppo tardi, ahimè. In ogni caso, trova mille scuse per giustificare Steve. Un giorno, Jamie va a trovare la sua famiglia e Steve la chiama ogni 15 minuti esatti. Jamie sopporta. L'unica cosa a cui non vuole rinunciare è il suo lavoro per la Microsoft. Infatti, con determinazione, si è fatta strada fino al Dipartimento delle Risorse Umane, dove è, tra l'altro, considerata un'impiegata preziosa. Quando è al lavoro, a differenza di quando è a casa, Jamie è sicura di sé, estroversa e amichevole. Nessuno dei suoi colleghi immagina la tensione familiare a cui è sottoposta. Jamie riesce a scindere la sua vita professionale dalla sua vita privata. È in questo periodo che scopre di essere incinta ed è entusiasta lì da diventare madre. Jamie non vede l'ora, letteralmente. Steve, invece, ha poco interesse, se non nessuno, a mettere la famiglia al primo posto. Il suo interesse principale è il gioco d'azzardo, poi c'è l'alcol e, infine, la polverina. Un giorno, Jamie entra in travaglio mentre è al lavoro. Dunque, tutti si affrettano a chiamare Steve, suo marito. Quest'ultimo, dice al collega, che si è preoccupato di chiamarlo, che sta guardando qualcosa in tv e che sarebbe arrivato direttamente in ospedale una volta terminata la trasmissione. Signori, questo bambino neanche è nato, ma Steve merita il premio come padre dell'anno, assolutamente. Si inizia benissimo, le premesse qua sono ottime, oserei dire. Ovviamente sono ironica. Jamie voleva che sua madre fosse presente in sala parto, desiderava averla accanto, ma Steve glielo aveva impedito dicendo «Se vuoi tua madre in sala parto con te, io non ci metterò piede». Ma non in sala parto, neanche in ospedale. Alla fine, però, Steve cede, anche perché, mentre sua moglie è in travaglio, lui si trova a casa, spaparanzato sul divano, a guardare la televisione. Insomma, le sue priorità sono tristemente evidenti. Quindi Judy, la mamma di Jamie, entra in sala parto e assiste alla nascita di Tyler, il primo e unico figlio di Jamie e Steve. Tyler diventa il centro del mondo di Jamie, lei ama suo figlio, fa di tutto per essere una buona madre, mentre Steve è un padre indifferente e assente. Ciò nonostante, Steve minaccia i genitori di Jamie dicendo loro che se interferiranno con il suo matrimonio, prenderà Jamie e Tyler e li porterà a vivere fuori dallo Stato. Steve a scattidire sempre più frequenti nel frattempo. Durante la gravidanza aveva smesso di aggredire fisicamente Jamie, ma le cose ora sono addirittura peggiorate. Un giorno la colpisce prendendola a pugni per poi trascinarla per i capelli in tutta la casa. Il 5 novembre 1989 la polizia viene chiamata per intervenire nella loro casa di Bothel, Washington, a causa di una lite domestica molto violenta. L'ufficiale che risponde alla chiamata trova Jamie isterica mentre stringe forte Tyler, ha diverse macchie russe sul viso e una ferita sanguinante sul capo. Ebbene, Stephen le aveva letteralmente strappato una ciocca di capelli. L'ufficiale ritrova la ciocca in cucina per terra con ancora attaccato il cuoio capelluto. Dopo questa aggressione, Jamie chiama i suoi genitori chiedendo loro di andare a prendere lei e Tyler. Steve, però, non la lascia in pace. La chiama costantemente, la prega di tornare a casa, le manda tutti i giorni dei fiori e alla fine Jamie torna da Steve. Jamie si rifiuta di testimoniare contro il marito, pensa così di salvare il loro matrimonio. Soprattutto è convinta che Tyler debba crescere con una mamma e un papà, non solo con una mamma. Di conseguenza le accuse contro Steve vengono rispinte. Come molte coppie in crisi, gli sharer pensano che l'acquisto di una casa più spaziosa avrebbe risolto i loro problemi. Mi chiedo in che modo, ma va bene, proseguiamo. D'altro canto, la casa in cui vivono è davvero piccola. E probabilmente Steve si arrabbia spesso perché non ha i suoi spazi, almeno così pensa Jamie. A questo punto interviene la madre di Steve che accetta di prestare alla coppia dei soldi per acquistare una villa su due piani con un bel cortile a Redmond. Sempre a Washington. Jamie inizialmente è convinta del trasloco nella nuova casa, ma dopo qualche mese confida a colleghi e conoscenti che forse non sarebbe rimasta con suo marito. Non si sarebbe trasferita con Steve, insomma. Sembra finalmente rendersi conto nel 1990 che né il suo matrimonio né Steve hanno possibilità di migliorare. Anzi, a questo punto Jamie è convinta che le cose peggioreranno e basta. E ha ragione. Se non per se stessa vuole cambiare le cose per suo figlio e quindi dargli un futuro migliore. A maggio dovrebbero lasciare la casa, ma Jamie non è ancora convinta di voler andare via col marito. Sospetta infatti che Steve in passato le sia stato infedele e preferisce tenerlo d'occhio prima di trasferirsi. Sebbene Steven avesse dei problemini con la propria virilità a causa del consumo prolungato di sostanze e alcol aveva pubblicato degli annunci sulle riviste per scambisti di nascosto. Inoltre, in uno dei pochi periodi in cui lavorava, Steve aveva descritto ai colleghi la vita intima con sua moglie in maniera indiscreta. Affermava che in casa sua organizzava delle vere e proprie ammucchiate. Non posso utilizzare l'altra parola altrimenti YouTube si emoziona e si arrabbia. Tra l'altro, nonostante stesse lavorando, Steven chiamava Jamie continuamente, incurante del fatto che stesse lavorando anche lei. Una volta si era presentato fuori dall'edificio aziendale e se ne stava lì preoccupato a guardare le finestre. Come se Jamie potesse lasciarlo da un momento all'altro. O forse Steve percepiva che si stava allontanando da lui? Lentamente. Ma adesso facciamo un saltino indietro. Dovete sapere che Steve per rifornirsi di sostanze andava da Joe Graham, anche lui consumatore di polvere bianca. Joe era sposato ma si era separato dalla moglie e dunque aveva trascorso tante notti a casa di Steve e Jamie dormendo sul loro divano. Una sera Steve aveva suggerito a Joe di lasciarsi andare a una cosa a tre includendo anche Jamie. Ma questa proposta aveva imbarazzato tantissimo sia Joe che Jamie. Insomma, come già vi ho detto Steve, era poco virile a causa delle sostanze assunte. allora aveva pensato di limitarsi a filmare Joe e Jamie durante il rapporto. Jamie convince Joe a sperimentare la cosa dicendogli che in caso di rifiuto Steve si sarebbe infuriato e si sarebbe infuriato con lei. C'era però una cosa che Steve stava sottovalutando. Il legame che sarebbe nato tra Joe e Jamie dopo quella sera. I due inizieranno a parlare, a confidarsi, creando un rapporto di amicizia che non includeva Steve. Jamie dopo mesi aveva confessato a Joe cosa significava davvero vivere con Steve e quest'ultimo ne era rimasto disgustato. Ecco perché nel settembre del 1990 Jamie sembra essere ottimista. Spera di poter iniziare una nuova vita con Joe ed è finalmente pronta a mollare Steve. Joe gli ha dato la forza di affrontare il suo marito e riprendersi la sua vita in un certo senso. Il venerdì sera del 28 settembre 1990 Jamie fa visita ai suoi genitori e lascia Tyler con sua madre. Il giorno successivo lo trascorre interamente con Joe. Mente a suoi genitori e a Steve. Mente sul luogo che deve raggiungere inventandosi che vuole andare con un'amica a un evento promozionale in un negozio nella vicina Tacoma. Steve trascorre parte di quel sabato con i fratelli gemelli di Jamie, Rich e Rob che in seguito ricorderanno quanto Steve fosse arrabbiato, era davvero infuriato. I suoi commenti su cosa avrebbe fatto a Jamie se l'avesse beccata a tradirlo erano terribili. Quella sera Judy parla con Jamie verso le sette quando la figlia la chiama per dirle che sarebbe arrivata un pochino in ritardo. Verso le due del mattino Steve chiama Judy per chiederle se Jamie fosse tornata a casa loro. Judy risponde di no e ovviamente è molto preoccupata non è proprio da Jamie stare fuori fino a quell'ora così tarda. Tuttavia la donna prova a pensare che la figlia si stia semplicemente divertendo in compagnia dell'amica. Alle sette e trenta della mattina di domenica trenta settembre Steve chiama ancora una volta Judy per dirle che in effetti Jamie è tornata a casa da lui. Ora sta venendo a recuperare Tyler. Il sollievo di Judy si trasforma in pura consolazione quando Jamie si presenta a casa dei genitori e annuncia che vuole trasferirsi da loro. Jamie confessa a sua madre di aver trascorso il giorno precedente con Joe cosa che Judy ovviamente non approva. Poi le telefonate di Steve riprendono. Jamie risponde a una sola delle sue chiamate per poi dire a Steve che il loro matrimonio è finito che non lo ama più e vuole il divorzio. Steve la prega di incontrarlo per parlarle faccia a faccia e lei alla fine acconsente purtroppo. Nonostante le proteste di Judy Jamie risale in macchina e parte per incontrare Steve. Presto chiama sua madre per avvisarla che Steve si trova nella casa nuova a Redmond la sta aspettando lì e si è anche preoccupato di prenderle la borsa. Jamie dice a Judy che sarebbe entrata per parlargli poi avrebbe fatto i bagagli per sé e per Tyler. Infine si sarebbe fatta una bella doccia e sarebbe tornata a Bellevue a casa dei suoi genitori. Jamie si sente tranquilla dal fatto che Tyler sia rimasto con Judy. Tre ore dopo alle 23.45 Jamie chiama ancora una volta a sua madre per dirle che è sulla via del ritorno ma si sarebbe fermata al Taco Time il suo fast food preferito per prendere qualcosa da mangiare. Questa è l'ultima volta in cui Judy sente sua figlia. Steve chiama alle 12.15 per avvisare Judy che Jamie non è a casa poi richiama di nuovo alle 12.30 per ribadire la stessa identica cosa. Come già vi ho detto Steve è solito chiamare ogni quarto d'ora ma stranamente quel giorno non telefona più fino alle 18.30 Judy pensa che Jamie in realtà stia con Steve che ci abbia ripensato e sia tornata da lui che non voglia più lasciarlo insomma. Ma a un certo punto Steve si presenta a casa di Judy per prendere Tyler e riportarlo a casa con lui. Alle 21.30 Steve chiama Judy e le chiede se lui e Tyler possono tornare a casa sua. Vi si reca e le ripete che non sente Jamie da tutto il giorno. Il giorno successivo martedì 2 ottobre 1990 Judy contatta l'ufficio di Jamie alle 7.30 del mattino. La sua preoccupazione si trasforma in vero e proprio terrore quando scopre che sua figlia non si è presentata al lavoro né quella mattina né la mattina precedente. Judy è così spaventata che chiama la moglie di Joe Graham nel disperato tentativo di avere notizie di Jamie. La donna chiede al marito di mettersi in contatto con Judy e Joe diventa subito nervoso. Insomma dice chiaramente che aveva implorato Jamie di non andare nella nuova casa a Redmond per incontrare di nuovo Steve. Judy a questo punto chiama il dipartimento di polizia di Redmond e denuncia la scomparsa di sua figlia Jamie Hagel Scherer. Gli amici di Jamie decidono di organizzare le loro ricerche e si dirigono dapprima a casa di Judy a Bellevue per ricevere informazioni dalla donna. Microsoft intanto stampa migliaia di volantini con le immagini di Jamie che sorride e concede a diversi dipendenti un congedo retribuito per unirsi alla ricerca. Sebbene Steve si trova a casa di Judy non si unisce alle ricerche di sua moglie ne distribuisce i volantini finge di essere dispiaciuto un sacco ripete che la situazione per lui è terribile ma non muove un dito. Ovviamente fin dall'inizio Steve è il principale sospettato ma nega ripetutamente qualsiasi coinvolgimento nella scomparsa di sua moglie. A differenza di Joe Graham Steve è tutt'altro che disposto a parlare con la polizia. Intanto in ogni caso il tempo passa e Steve cosa fa? Incassa le azioni Microsoft di Jamie azioni che poi l'avrebbero resa milionaria se fosse rimasta in vita. Va in giro per i bar con i suoi indumenti intimi legati al braccio e la sua colana di diamanti indossata al collo sostenendo che lo fanno sentire più vicino a lei. Posso dire una cosa? Credo sia incredibilmente inquietante questo fatto ma proseguiamo. La sorella di Steve però nota una macchia rossa sul tappeto della casa di Redmond e chiaramente avvisa la polizia. Inoltre un amico della famiglia di Steve sostiene di aver visto una pala nel veicolo di Steve il primo ottobre ossia il giorno dopo la scomparsa di Jamie. Il 5 ottobre la polizia trova l'auto di Jamie nel parcheggio di una chiesa a Shoreline una comunità a poco più di 20 miglia dalla sua casa a Redmond. Nell'auto in effetti c'è una valigia contenente alcuni dei suoi abiti sportivi solo abiti sportivi ma c'è anche qualcosa che manca del tutto la sua biancheria intima il sedile del conducente è spostato di molto all'indietro come se l'ultima volta avesse guidato una persona alta come già vi ho detto Jamie è una donna particolarmente minuta e non sarebbe stata in grado di raggiungere i pedali con il sedile reclinato in questo modo è lo zio materno di Steve un vice sceriffo di King County a rispondere a una chiamata sull'auto abbandonata il vice sceriffo spiega che Steve lo aveva chiamato e gli aveva chiesto di cercare l'auto di Jamie nella sua area di pattuglia un segugio dopo aver captato un odore dal poggiatesso del sedile del conducente lo rintraccia lungo la interstatale 5 fino a una fermata dell'autobus sulla rampa di uscita poi lo perde e questo suggerisce che la persona di cui stava seguendo l'odore si è salita su un autobus a casa dei genitori di Steve i segugi annusano i vestiti di Jamie ma non sono in grado di rintracciare il suo odore nei pressi della casa tuttavia quando annusano l'odore dei pantaloni di Steve tracciano esattamente lo stesso percorso che il primo segugio aveva delineato e che giunge fino alla stazione degli autobus quando l'auto di Jamie viene esaminata la polizia scopre che l'allarme non è impostato le chiavi vengono trovate nella tasca di un cappotto femminile di pelle disposto sul sedile del passeggero in una piccola busta nascosta sotto il sedile di guida ci sono la fede nuziale di diamanti di Jamie e un orologio da polso altrettanto tempestato di diamanti non è presente sangue ne vengono rilevate impronte digitali che possono indirizzare la polizia nel comprendere cosa sia successo a Jamie e soprattutto dove la donna si trovi l'8 ottobre Steve permette alla polizia di entrare in casa sua dove viene notata la macchia rossa di cui si era preoccupata sua sorella così come un'altra macchia vicino alla porta del garage al piano di sotto Steve il giorno dopo si rivolge a una ditta di pulizia e fa lavare tutti i tappeti della casa più tardi quel pomeriggio va al bar e dice agli avventori che è felice perché traduco testualmente la cagna se n'è andata contrariamente a quanto espresso al bar il giorno prima l'affranto marito aveva detto alla polizia che sentiva tantissimo la mancanza di Jamie e che era insopportabile non sapere dove si trovasse il 10 ottobre poco prima delle due del pomeriggio un operatore di servizi di emergenza riceve una chiamata dalla casa di Redmond dove vive Steve pare che Steve abbia tentato di suicidarsi in garage mediante avvelenamento da monossido di carbonio viene trovato semicosciente a difficoltà a parlare e a muoversi le sue condizioni sono critiche e viene dunque trasportato in elicottero in un ospedale di Seattle gli investigatori intanto notano che Steve aveva posizionato una foto di Jamie scattata il giorno del loro matrimonio sul sedile accanto a lui aveva anche lasciato un biglietto in cui si scusava per essersi tolto la vita ma non poteva vivere senza Jamie però era stato lui stesso usare un cordless per chiamare i servizi di emergenza sebbene Steve arrivi in ospedale in condizioni critiche sopravvive gli investigatori dubitano che avesse una reale intenzione di suicidarsi dato che aveva chiamato i servizi di emergenza in tempo per essere salvato il mese successivo nel novembre del 1990 Steve va a un appuntamento con una donna le dice di essere vedovo da poco e che aveva perso sua moglie in un incidente d'auto con altre persone si inventa che Jamie è una probabile vittima del serial Green River o di qualche altro uomo intanto il tempo passa Jamie non contatta la sua famiglia non utilizza le carte di credito o il suo conto in banca i volantini affissi in tutta la città cominciano a sbiadire ci sono altri casi che hanno la priorità rispetto al suo d'altro canto nel giugno del 1991 Steve litiga con un uomo fuori da un bar ma quest'ultimo estrae la pistola e gli spara all'avambraccio nel 1992 Steve torna in prigione per aver fatto uso di sostanze per aver saltato l'incontro con il suo ufficiale di sorveglianza violando la libertà vigilata nello stesso Andon vende la casa di Redmond e viene citato in giudizio da sua madre che esige la restituzione dei soldi che aveva prestato a lui e a Jamie per l'acquisto dell'immobile la famiglia di Jamie invece assume diversi investigatori privati nessuno dei quali riesce però a rintracciare la ragazza i familiari di Jamie fortunatamente ottingono la custodia di Tyler e fanno sì che cresca in un ambiente amorevole provano a rassegnarsi all'idea che Jamie sia morta Steve vede suo figlio di rado Tyler per lui non è di certo una priorità e a dirla tutta non lo è mai stato nel maggio del 1997 Jamie viene dichiarata legalmente morta pochi mesi prima era stata avviata una nuova indagine sulla sua scomparsa i detective seguono diverse piste che li portano in California in Arizona alle Hawaii in Wisconsin nel North Carolina in Germania e persino in Colombia interrogano centinaia di persone nell'autunno del 1998 Steve che si era trasferito in Arizona torna a Washington per consegnarsi alla polizia è destinatario di una moltitudine di mandati per guida in stato di ebrezza e viene condannato a otto mesi nel carcere di King County i detective nel frattempo continuano a indagare su di lui convinti che è l'assassino di Jamie inoltre finalmente tutte le sue ex fidanzate più altre persone iniziano a raccontare le proprie esperienze a contatto con Steve lo fanno con una certa sicurezza ora che lui è dietro le sbarre entro la fine di ottobre i pubblici ministeri presentano prove e testimoni davanti a un giudice d'inchiesta tra loro c'è Joe Graham che si era trasferito nell'Idaho Steve Scherer viene presentato come un individuo meschino e sadico che si era scontrato ripetutamente con la legge da quando aveva 18 anni ma non solo umiliava regolarmente le donne con cui stava compresa sua moglie Jamie quando viene rilasciato dalla prigione alla fine del maggio del 1999 Steve sa che ormai la verità è vicina il cerchio si stringe presto la polizia lo avrebbe collegato all'omicidio di Jamie insomma ciò nonostante viene arrestato ancora una volta nel giugno del 1999 per aver minacciato un agente di polizia questo Steven è proprio un genio l'8 gennaio del 2000 a 8 mesi dal decimo anniversario della morte di Jamie Steven Scherer viene arrestato con l'accusa di omicidio di primo grado finalmente la sua cauzione è stata fissata a un milione di dollari il suo processo doveva iniziare il 17 aprile del 2000 ma viene rimandato perché la selezione dei membri della giuria si prolunga fino al 3 maggio tra i testimoni dell'accusa c'è un'ex fidanzata di Steve che aveva soltanto 16 anni o poco più quando usciva con lui dopo la scomparsa di Jamie tra l'altro la ragazza testimonia che lui gli aveva chiaramente riferito di aver avuto un alterco fisico con Jamie nella casa di Redmond e di averle fatto sanguinare il naso Steve gli aveva raccontato anche della truffa assicurativa in California anni prima aveva nascosto dei beni dalla casa che condivideva con Jamie e aveva finto che fossero stati rubati secondo la testimone aveva usato parte dei proventi dell'assicurazione per pagare l'operazione al seno di Jamie un altro testimone sostiene di aver pulito il tappeto nella casa di Redmond dopo la scomparsa di Jamie e dopo che la polizia aveva effettuato una perquisizione dice che in un'area del seminterrato vicino alla porta del garage aveva individuato macchie di urina e feci Steve dal canto suo aveva dato la colpa al cane e alla fine aveva sostituito quel pezzo di moquette dopo molteplici interventi di pulizia e trattamenti nessuno poteva dire esattamente a che appartenessero quei liquidi corpori e perché fossero stati rinvenuti proprio lì rispetto all'accusa la difesa ha molti meno testimoni da chiamare Steve non ha mai avuto molti amici specialmente molti veri amici insomma cui pochi che vanno alla sbarra tentano di infangare l'immagine di Jamie come madre e moglie amorevole ed è a questo punto che la difesa si avvale della videocassetta in cui Joe e Jamie consumavano rapporti intimi e di cui Steve aveva effettuato le riprese in molti però minacciano di lasciare l'aula del tribunale non vogliono vedere quelle scene quindi il giudice si rifiuta di accettare la videocassetta come prova la difesa fa ugualmente del suo meglio per diffondere la convinzione che Jamie fosse una donna di poca o nessuna morale una che si era allontanata dalla famiglia di sua spontanea volontà il caso è affidato alle valutazioni della giuria il primo giugno del 2000 le otto donne e i quattro uomini che la compongono impiegano quasi sette giorni pieni per esaminare le prove e deliberare il corpo di Jamie non è mai stato trovato ma tutti sono d'accordo sul fatto che la donna fosse morta e che non fosse scappata per rivoluzionare la sua esistenza anche perché come in molti altri casi in cui a scomparire è una madre Jamie non se ne sarebbe mai e poi mai andata senza portare con sé il figlio alla giuria aspetta quindi un compito preciso decidere se Steve è responsabile della morte di Jamie di solito più tempo una giuria impiega per deliberare più la difesa spera in meglio ma in questo caso non va così giovedì 8 giugno la giuria emette il verdetto Steve Scherer è ritenuto colpevole di omicidio premeditato di primo grado e colpevole di omicidio criminale di secondo grado Steve appena ascolta il contenuto della sentenza si immobilizza non sa come reagire è scioccato perché prima di mettere piede in tribunale era sicurissimo che sarebbe tornato a casa quel giorno stesso ne era talmente certo che lo aveva detto anche a parecchi amici e conoscenti sconvolto riesce soltanto a rivolgersi ai giurati dicendo quando Jamie tornerà come se niente fosse successo voi marcirete all'inferno dopodiché si volta verso Judy e le urla vaffanculo carino eh il 22 luglio del 2000 Steve viene condannato a 60 anni di carcere il giudice sostiene di aver basato la sua decisione sulle cicatrici emotive che Tyler Scherer allora dodicenne si sarebbe portato dietro per tutta la vita consapevole che sua madre era stata uccisa per mano di suo padre inoltre aggiunge che Steve deve aver pianificato a lungo l'omicidio infine con le sue bugie l'uomo non ha fatto altro che prolungare le sofferenze della famiglia della vittima visto che insisteva che Jamie fosse viva e vegeta da qualche parte neanche quando viene condannato Steve ammette di essere colpevole e non fornisce informazioni per localizzare il corpo della sua defunta moglie la madre di Steve dice ai giornalisti riuniti fuori dal tribunale che non crede alla colpevolezza di suo figlio l'ingiusta pena sarebbe stata appellata e a quel punto la verità sarebbe emersa la storia di Steve Scherer non si conclude con la sua incarcerazione il condannato viene recluso nella prigione dello stato di Washington vicino a Walla Walla per scontare la sua pena nel maggio del 2001 Steve spende 80 dollari per pubblicare un annuncio su un sito chiamato jailpass.com con l'intento di trovare un'amica di penna scrive queste parole il mio obiettivo principale è incontrare una compagna o un'amica molto intima sono un tipo solare socievole amo lo sport e mio figlio e sto cercando una donna attraente onesta ma non molto religiosa e senza alcun problema a discutere di intimità conclude scrivendo se una donna con queste caratteristiche è disposta a rischiare e guardare oltre l'accusa per cui sono in prigione ne sarà felice come aveva preannunciato la madre di Steve presenta ricorso affermando che le prove presentate contro di lui erano insufficienti per giustificare un'accusa di omicidio premeditato di primo grado sostiene inoltre che la giuria non avrebbe dovuto ascoltare le dichiarazioni incriminanti fornite dai testimoni né il racconto degli episodi di violenza messi in atto da Steve contro Jamie io quando ho letto questa cosa mi sono chiesta se la madre di Steve avesse tutte le rotelle a posto scusatemi perché non è possibile che una donna o una madre arrivi a dire una cosa del genere ho cercato anche più fonti per cercare di capire se questa affermazione fosse reale ebbene sì lo è lo è ragazzi ragazze è reale la donna infatti aveva tentato di bloccare questi interventi durante il processo ma il tribunale aveva respinto le sue emozioni giustamente la corte d'appello si schiera col tribunale di primo grado considerando le motivazioni della madre di Steven a dir poco deliranti dunque respinge il suo ricorso nella primavera del 2003 sopraggiunge la notizia che nel dicembre del 2001 mentre stava preparando il suo appello Steve si era avvicinato a un compagno di cella e gli aveva chiesto di dar fuoco a una casa a Bellevue come presumibile si trattava della casa in cui vivevano la madre di Jamie e pure il figlio di Steve se avesse appiccato l'incendio il compagno di cella sarebbe stato ripagato con gioielli dal valore di 17.000 dollari che secondo Steve erano sepolti sotto una casa di Mill Creek dove viveva sua madre la polizia aveva ricevuto una soffiata sull'ingaggio per provocare l'incendio doloso alla fine del 2001 l'aveva trovata abbastanza credibile da mettersi a intercettare le telefonate di Steve in prigione quando il compagno di cella viene rilasciato nel febbraio del 2002 la polizia lo perquisisce e trova un libro con annotato l'indirizzo e le indicazioni stradali per raggiungere la casa di Judy l'uomo ammette di aver accettato di bruciare quella casa in cambio dei gioielli e sceglie di collaborare con la polizia piuttosto che tornare in prigione svela le forze dell'ordine e tutte le fasi del piano orchestrato da Steve per incendiare la casa di Judy l'incendio dell'immobile però non è l'unico danno che Steve intendeva arrecare i familiari di Jamie voleva che si trovassero all'interno della casa e che morissero travolti dalle fiamme tutti quanti il compagno di Cella tuttavia non era a conoscenza dell'identità degli abitanti della dimora la sua ex suocera e suo figlio non erano le uniche persone che desiderava eliminare in realtà Steve voleva che il suo compagno di Cella uccidesse anche una donna di nome Marilyn Brenman l'avvocato che lo aveva perseguito e i suoi quattro figli aveva offerto l'ingaggio per l'assassinio di Brenman a un altro ex compagno di Cella il quale aveva saggiamente rifiutato i vigili del fuoco di Bellevue in collaborazione con la polizia simulano a questo punto un incendio nella casa di Judy generando abbastanza fumo da indurre a pensare che la casa stia bruciando davvero un quotidiano locale riporta la notizia che la casa o meglio i suoi abitanti potrebbero essere stati presi di mira l'articolo viene inviato a Steve che a questo punto spedisce all'ex compagno di Cella le indicazioni per raggiungere la vecchia casa di sua madre a Mill Creek in modo da recuperare i gioielli sepolti la proprietà è soggetta a una perquisizione ma indovinate non vengono trovati né gioielli né contanti Steve viene accusato e condannato per adescamento nel commettere un incendio doloso a differenza della giuria del precedente processo questo impiega meno di due ore per dichiararlo colpevole di fronte alla terza condanna ricevuta le altre due riguardavano l'omicidio di Jamie e un'accusa per aggressione criminale nel 1987 ai sensi della legge sui criminali di Washington Steve viene automaticamente condannato all'ergastolo i detenuti della prigione di stato di Washington riferiscono poi che Steve Scherer ha spesso detto loro di aver strangolato Jamie perché lei era intenzionata a lasciarlo aveva nascosto successivamente il suo corpo in un posto dove nessuno l'avrebbe mai trovata Judy crede che Steve abbia davvero strangolato sua figlia crede che l'abbia fatto in cima alle scale della casa di Redmond e che Jamie sia caduta spargendo delle macchie sul tappeto sottostante Steven Scherer è attualmente incarcerato presso il Clallam Bay Correction Center nella parte occidentale di Washington dove sconta la pena insieme a circa altri 900 detenuti il padre di Jamie Jerry muore nel 2016 all'età di 75 anni a seguito di una battaglia contro il cancro Tyler Scherer che aveva due anni quando Jamie è scomparsa oggi ne ha 32 sua madre purtroppo non è riuscita a raggiungere quest'età il corpo di Jamie non è mai stato trovato detto questo io ho finito di parlare in questo video fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso e se lo conoscevate io sono sempre un po' in difficoltà quando non c'è il corpo della vittima però credo che in questo caso sia palese che Steve è colpevole ma voglio sapere cosa ne pensate voi quindi come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti e nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale mi raccomando ciao a tutti grazie a tutti